A Rezzo si rialza lentamente dopo lo schiaffo del downbrust, la tempesta di vento, grandine d'acqua del 13 luglio. Tra i vari danni subiti dalle strutture pubbliche ci sono anche gli edifici di edilizia residenziale pubblica. In via Malpighi la paura era stata per alcuni frammenti di amianto che si erano staccati dal tetto delle abitazioni in seguito alla rottura di alcuni comignoli. L'assessore Tiziana Nesini si era subito mossa per verificare se fosse il caso di evacuare o meno le famiglie. La decisione è che le famiglie resteranno al loro posto, relazione sanitaria alla mano. L'area interessata dai detriti è stata transennata. Interventi di ripristino anche in zona tortaia mentre in piazza Andromeda la situazione è in stallo. C'è grande preoccupazione anche nella zona dell'ex mercato ortofrutticolo dove i residenti da tempo avevano chiesto la rimozione della vecchia copertura dove presenta mianto. Nulla di fatto però e da adesso alcuni frammenti si sono sbriciolati sotto gli occhi di tutti. La rabbia è tanta ci dicono i residenti visto che i nostri figli giocano a pallone fuori e vorremmo che lo facessero in tutta sicurezza.